Il servizio tecnico è Nick Malle, il capitano Sergio Palisse e il manager Carlo Pecchinato. Luzio, prego. Nick, ieri alla domanda su perché avevi scelto marcato a estremo e McLean Apertura ha detto avremmo visto oggi. Oggi sinceramente si è visto un marcato con seri problemi ad estremo. E' risultato forse l'ennesimo fallimento di un esperimento fatto in questo anno e mezzo. Una conclusione da parte tua, credi che si possa andare avanti con quest'Italia, con questo modo di giocare, con queste scelte o sarebbe meglio cambiare? Credo che possa andare avanti, credo che Luke McLean sia il miglior 10 a questo momento in Italia. e basta così, non voglio ancora parlare di questa situazione con Andrea perché ho visto Andrea all'estremo che ha un po' di difficoltà a un livello di accelerazione nel gioco. la partita che Luke ha giocato contro Irlanda e la partita che lui ha giocato oggi è migliore che l'altro 10. Farà chiaro che tu non abbia voglia di metterti e di lasciare la panchina dell'Italia, quindi ti faccio questa domanda. Non riusciamo ad avanzare con l'offload perché non siamo in grado di farlo con i giocatori che abbiamo o perché non siete voi in grado di impostare la squadra con questo tipo di avanzamento? Forse, se voglio trovare un altro allenatore, va a cercare un altro allenatore. L'ultima volta ti ha fatto la stessa domanda dopo la partita contro l'Isola Pacifico e non piace la domanda. Grazie.